Area ex Agip è la volta buona, sembrerebbe di sì. Finalmente c'è il progetto definitivo presentato ufficialmente questa mattina dal sindaco di Fano Massimo Seri, dall'assessore lavori pubblici Barbara Brunori insieme ai progettisti, gli architetti Leonardo e Riccardo Bacchi della ditta Architetti Associati di Forlì. Dopo i lunghi interventi di bonifica del sito, ad oggi senza alcuna traccia di contaminazione, finalmente si andrà ad intervenire già da quest'anno per realizzare un'area vivibile all'ingresso della città. Uno spazio che veramente mette al centro quello che è la sostenibilità, la sicurezza delle persone, visto che ci troviamo anche in prossimità della scuola, con un richiamo fedele a quello che era il disegno derenziano. Naturalmente avranno una visione contemporanea rispetto a bisogni che oggi sono subentrati nella città. Di fatto vogliamo restituire un luogo al meglio che non è un parcheggio ma è un'area in più dove la città davvero potrà riconoscersi. Un investimento di 441 mila euro di cui 380 mila arrivano dai fondi ministeriali, quindi ci siamo aggiudicati grazie ad un bando sulla rigenerazione urbana e 61 mila euro sono state invece destinate grazie a risorse comunali proprio per la progettazione. Insomma uno spazio rigenerato come lo era un tempo. L'intervento vedrà una piccola piazza con sedute, nuove alberature, aiuole e aree verdi che circondano tutto il perimetro e una pavimentazione in cemento architettonico con inerti locali di colore rosa. I lavori partiranno a settembre proprio perché adesso a brevissimo manderemo a gara il progetto, aggiudicheremo i lavori per far sì che a settembre iniziano e terminano per la prossima primavera. Il progetto è diviso su più stralci, infatti l'intervento non comprende solo l'area dove sorgeva il distributore ma anche tutto il contorno dell'istituto Corridoni. In via Montegrappa spariranno i parcheggi davanti alla scuola per consentire la piantumazione di nuove alberature e la realizzazione di una pista ciclopedonale. La parte verde retrostante invece verrà arricchita da nuovi spazi aperti e da giochi, mentre nuovi parcheggi verranno realizzati in via Malagodi, ma questo comprende il secondo e terzo stralcio, quindi lavori che verranno eseguiti in un secondo momento. I parcheggi con questa nuova progettualità dove adesso naturalmente andremo a realizzare la prima parte. Migliorerà anche quella che è l'area della sosta in termini di ordine e anche di numero di parcheggi, perché passeremo da 72 parcheggi a 99. Soddisfatto il sindaco Seri per questa nuova visione d'insieme della città, che andrà a valorizzare anche gli eventi in quella zona, il Carnevale e la città dei bambini. L'obiettivo che ci siamo dati è quello di rendere Fano la città più bella e interessante della nostra regione. Questa è la strada giusta, si unisce a tante altre riqualificazioni, ma questo è un progetto contemporaneo che dialoga col suo passato, che tiene conto della persona, che tiene conto della bellezza e tiene conto soprattutto anche di quelle che sono le esigenze del domani. Ma quello che voglio sottolineare è che il ragionamento che abbiamo fatto non riguarda solo quell'area, abbiamo ragionato su tutto l'isolato e l'isolato nell'intero centro storico della città, perché il progetto è un unico, è chiaro che poi si interviene per stralci.